A Conegliano vittoria al primo turno del centro-destra unito con Chies. I risultati dei comuni al voto nella marca trevigiana tra conferme e sorprese. Traffica di incidenti nella marca trevigiana, vigili del fuoco al lavoro su due schianti nella notte. Sindacalista seguito e pedinato, presidio di protesta da parte dei lavoratori Elettrolux. Buonasera, ben ritrovati. Questo è TG Treviso, l'informazione di Rete Veneta che vi accompagna costantemente. Iniziamo parlando di elezioni. Il comune più importante nella marca trevigiana era Conegliano. Vediamo come è andata con Fabio Chies che diventa sindaco e conferma che il centro-destra unito fa paura e ottiene risultati. Avevamo dei dati che ci davano vicini al primo turno, però da questo a realizzare un sogno che è quello di vincere il primo turno, veramente c'è la strada da fare. L'impresa che si respirava nell'area nelle ore febbrili della conta era reale. Sindaco al primo colpo, nessun bisogno del ballottaggio. Fabio Chies fa centro, lo fa nel modo più eclatante, agguantando con il 51,79% il comune più importante della marca trevigiana in questa tornata elettorale e spazzando via l'avversario diretto Alessandro Bortoluzzi, PD, fermo al 30,81%. Che la tradizione del centro-destra Conegliano fosse assodata non c'erano dubbi, ma tutti già guardavano la sfida fra 15 giorni. Non è servita. Chies sindaco e per colui che è anche coordinatore provinciale di Forza Italia, il perché è semplice. Abbiamo cercato di dire ai nostri elettori di una città serena, di una città pulita, di una città decorosa e penso che questo alla fine abbia pagato. Sotto l'alloggio del municipio, brindisi con colui che l'ha preceduto, Floriano Zambon. Non erano mancate scintille mesi fa al momento di scegliere il candidato. Poi la strategia della pace e del puntare sul volto nuovo è risultata vincente. Ora la macchina parte, Chies si dà dieci giorni di tempo per la nuova giunta, ma non vuole rinunciare al ruolo di coordinatore provinciale di Forza Italia. Anche perché abbiamo bisogno di un rilancio del partito e a Conegliano abbiamo fatto molto bene, penso che questo vada esportato in tutta la provincia. Adesso andiamo a Santa Lucia di Piave dove si riconferma come primo cittadino Shumsky. La Lega che ha lasciato me, ha scelto un altro candidato contro di me e quindi il risultato si è visto insomma. Dopo una vittoria schiacciante per il rieletto sindaco di Santa Lucia di Piave è tempo di togliersi qualche sassolino dalla scarpa e la prima stoccata è rivolta alla Lega Nord, Rea a suo dire, di non averlo sostenuto in questa tornata elettorale. Ma quel 61,43% ottenuto a fronte del 22,43% del diretto avversario Riccardo Sossai appoggiato proprio dal carroccio cancella ogni polemica e per Riccardo Shumsky è tempo di continuare un lavoro iniziato negli ultimi cinque anni. Dobbiamo realizzare queste opere che avevamo già messo in cantiere e che sarebbero realizzate nell'estate e autunno e lo faremo. Le ultime parole sono dedicate alla compagna Stefania Palù. Che mi ha sostenuto in questi anni, in questi mesi, in queste settimane, che mi ha aiutato e ha fatto sicuramente di me in questo percorso un uomo migliore e quindi ha dato a Santa Lucia una persona che era migliore di quella che era qualche anno fa. Allora andiamo a vedere un po' di eletti per quanto riguarda Treviso. Lo facciamo con l'ausilio del nostro tablet e le notizie su Tribuna Treviso Online. A Segusino vince Gloria Paolone, la vediamo. Poi ancora a Tarzo Vincenzo Sacchett, poi ancora a Susegana Vincenza Scarpa. Andiamo avanti con i sindaci velocemente. A Crespano Annalisa Rampin, poi a Possagno Valerio Favero, a Resana Stefano Bosa, vince contro il candidato sindaco uscente. Poi ancora a Santa Lucia di Piave, abbiamo detto Riccardo Sciumschi, a Trevignano Ruggero Feltrin, a Fontanelle Ezio Dan, a Casale Sul Sile Stefano Giuliato, a Zenson di Piave Daniele Dallenese, a Breda Moreno Rossetto, a Godega di Sant'Urbano Paola Guzzo, a Castelcucco Adriano Torresan, a Borso del Grappa Flavio Domenico Dall'Agnol, abbiamo quasi finito, a Cessalto Luciano Franzin, e poi ancora a Silea Rossella Cendron, e ultimo ma non ultimo a Cappella Maggiore Vincenzo Traetta. La cronaca adesso con una raffica di incidenti registrata nella notte. Due tremendi schianti lungo le strade della marca, due tragedie sfiorate, un miracolo che gli automobilisti coinvolti se la siano cavata con ferite medio-gravi e non siano in pericolo di vita. Il primo incidente a Mogliano, dove un trentenne di Campagna Lupia si è scontrato con un'altra autovettura, finendo letteralmente sopra il cofano di quest'ultima. È stato necessario l'uso di un autogru per riportare la situazione alla normalità. Il giovane è uscito praticamente illeso dall'abitacolo, si è pur sotto shock. Poche ore dopo, altro incidente a Valladi riese più decimo. Una carambola nella quale una ventunenne romena, alla guida di un'auto a metano, ha prima abbattuto un pilone dell'illuminazione ed ha finito la sua corsa in un fossato. Le pattuglie sono state impegnate tutta la notte, ma entrambi i soggetti coinvolti non hanno riscontrato ferite gravi. Una notte di soccorsi andata a lieto fine. Andiamo avanti con la cronaca, con il presidio dei lavoratori Electrolux per questa storia di spionaggio che ha visto coinvolto un sindacalista. Sentiamo cosa è successo. Sono qui perché credo che l'ha dimostrato quello che è successo prima. C'è decine di operai che accompagnano Agostin per difenderlo, danno il senso di come lavora lui. Io lo conosco perché lo conosco insieme nel direttivo nazionale della CGL e lui è un vero dirigente sindacale che ha i suoi operai e le sue operaie dietro ed è per questo che l'azienda lo colpisce. Se l'azienda lo colpisce, colpisce tutti quanti noi, colpisce proprio un modo di fare sindacato. Bisogna assolutamente difenderlo. Non è detto che se io ho diritto all'assistenza, questa assistenza devo farla dalle 4 alle 5. Io la faccio compatibilmente con la mia vita privata e con la mia vita di lavoro. Il tentativo di controllo e di parcellizzare il nostro orario della vita privata è un tentativo che non deve passare. Adesso Breda è su, questa è un'audizione a difesa, anche questa è una parte anomala. Di solito le audizioni a difesa si fanno nei luoghi di lavoro. In questo caso l'azienda si barrica dietro la loro torre fortificata dove c'è l'un'industria, spiegherà le sue motivazioni, le giustificazioni per i giorni che loro gli contestano. Noi siamo sicuri che uscirà vincitore. Naturalmente si riferisce a Bruno Agustino Breda che è stato sospeso dall'Electrolux che l'ha fatto seguire in quanto rappresentante sindacale non avrebbe rispettato determinati orari. Comunque è una vicenda tutta da chiarire. Questa sera torna Focus, uno speciale, naturalmente elezioni in studio con il nostro direttore Luigi Bacialli, Simonetta Rubinato, Eleonora Mosco, Roberto Marcato, Settimo Gottardo e Fabio Chies, nuovo sindaco di Conegliano. È tutto per TG Treviso, vi ringrazio e vi auguro una buona serata. Ci sono le previsioni del tempo. Le previsioni per domani. In pianura, in prevalenza soleggiato, sulle zone montane, sereno, poco nuvoloso, con sviluppo di annuvolamenti durante le ore più calde con probabilità di qualche locale rovescio o temporale di calore. Temperature minime in aumento, massime pressoché stazionarie. Venti deboli da ovest-nord-ovest in quota, brezze nelle valli, deboli a tratti moderati dai quadranti orientali in pianura.